Che ma è entrata nella nostra squadra, che cazzo, oh! Eh vabbè, però entra e fai una squadra, porco Dio però, eh! Eh che Cristo! Eh sì, una squadra prima e ora una squadra dopo! Eh ho capito, ma che cazzo ne so che giochiamo in 5 contro 3! Io cane! Allora, la prossima volta che facciamo la cv, la cc si prepara una settimana prima, si gioca tutti quanti a sta cazzo di Battlefield e va in Stigel Forte! Eh ma è colpa mia se la gente sta in 24 ore su 24 sud-destri! Oh, che cazzo c'entro io! Eh, porco Dio, che cosa ti devo dire? Go Skrills, Rabbid Horse! Scusami eh, che cazzo vuol dire? Scusami, se facciamo 1-12, 1-8 e 1-8, come cazzo facciamo a vincere? Allora... Cosa devo prendere? Quelle fottute mine dappertutto, Alessio, porca puttana! Cosa prendo? Il cecchino o il medico? Metti ingegnere, porco Dio, metti ingegnere, madonna! Le mine qua, quelle grosse o... Ma i ragazzi! Metti il cazzo di mine, le più grandi, ma metti le mine di ocane, chi sono in cura? Mettete i lanciarazzi, mine e via! Tutti? Porca puttana! Questi avanzano con i carri! Mi ha sbagliato! Mettete i Stinger, eccetera! Ho capito! L'ingegnere che viene con me! Ci vengo io con te, Danif! Allora, Antore e Axel sono i ingegneri, quando siamo in attacca usate i attrezzi riparatore, e quando siamo in difesa usate le mine, ok? Ok, quindi adesso ho il riparatore? Porco Dio! Dai, su, però, eh! Chi sono io? Aspetta, aspetta, non mi sembra di fare niente, perché devono entrare qui prima, non toccate niente. Dani, fai l'altra squadra, intanto. Perché mi sbagliato? Siamo avanzare, io e Ken? Non mi piace, non mi piace. Mi viene a mettere un segnalatore di dentro, se riuscite a entrare dentro un palazzo. E anche un segnalatore di movimento. E dove devo piazzare il segnalatore? Dentro un edificio, sopra il tetto. Sto parando, non sono neanche in cosi, sono già partiti! Ma cosa vuol dire? Io mi devo incazzare. Ma sono i bitartimentali questi qua? What's up? Ma mutinati, tanto sono nella squadra loro, ammolate i compagni in squadra tuoi, Axel. Ma io non capisco perché non tiene le classi. Perché è un giocatore in merda. Ma che... Eh, ho capito, però che fa parte. Eh, lo so, bravo, è un gioco di merda. E io perché sono con gli altri? Che è successo? Ho sparito tutto. Ti capisci, bontezze! Dani, poi stasera ragioniamo con calma. Dobbiamo capire cos'è che non funziona qua. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che... No, state fermi. Qual quadra... Drac, qual quadra non cosa. Axel, vieni. Sì, mi sto a fare le classi, un attimo. Eh, veloce! Drac, sei partito? Sì! Io sono qua. Non mi ha fatto sparo una ramba, tutta te. Ma niente. Axel, veloce! Vabbè, io con la gipetta. Che c'è che ci tira? Dai, eh, ragazze! Andi, torre! No, un attimo, ce l'ho il sediatore, ah, ok. Ma, ma fa' un culo! Spumola su di me, torre, veloce. Sì, aspetta che mi fa rinascere, dai, muovi, giri. Sì, vabbè, attento, chiunque sta sulla boba, che c'è uno. Eh. Dai, veloci, carlo. Veloci, dai, venite su A, veloci. Dai, ci siamo diseggiati da cavo, dai. Draco, si può utilizzare il C4? No. Ah, io ho attivato B, ho attivato. Raga, mi hanno ucciso. Dai, difendete A che è quasi fatto. Dai, ma anche un secondo esplode, dai, perfetto, vai. Sì, esplode, esplode. Dai, dai. Difendete tutti su B, tutti su B. Convergete tutti su B. Coprite la vista, B. Eh, va. Ok, spumola su di me, Alex, sono sull'elicottero. Ok, ok. Veso uno, dai, dai, raga, dai, dai, cazzo. Sono due lì, sono due lì, mi hanno ucciso. Ce ne sta uno dietro, uno dietro. Dai, raga, dai. Axel, vieni sull'elicottero, veloce. Sì, 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 sì. Dai, che a penare meglio gli obiettivi, noi siamo qui, noi, dai. Occhio, che hanno un mezzo, hanno un mezzo lì. Sì, dietro di noi, dietro di noi. Non scendete, non scendete, che dobbiamo fare prima spawnare le bombe, prima. Vai, scendere. Abbiamo il mezzo dietro, eh, raga, occhio. E tu sei dialatore, io, eh. Alla sinistra, sulla strada, al mezzo. Vai, venite. Vai, preso. Vai, vai. Entrare su, entrare su, entrare su. Salete, Cristo, che vi porto lì, no? Porco, madame. Che sono già qua, io che ho già preso. È da dietro, da dietro, attenti. E togli, le spavole. Veloci, veloci, attenti. Sponati su di me, veloci. Sta uno, sta uno, sta salì, sta salì. Sta salì, le scale sua. Vai, li ho presi. Ero dentro il cartone. Non mi fa spawnare su di te. Vai, 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 li hai presi tutti, raga. Ne è rimasto uno, dai, veloci. Minchia, mi sono mimetizzato in mezzo alle scatole. Dai, su, raga, dai. Dai, eh, non fatti sì, le scale mi incazzo. Sto cavolo, lì. Sto cavolo, lì. Sto cavolo, dove c***o? Perfetto, vai, vai, vai. Sto cavolo. Mi hanno ucciso, c'è il cavolo. Sotto A, sotto A. C'è il cavolo, c'è uno. Perfetto, i cavolo, il cavolo, il cavolo, il cavolo, il cavolo, il cavolo, il cavolo. Ingegneri, ingegneri, devono spaccare quel cavolo. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando col cavolo, ma sono un po' di istante. Sono tutti i campionati su B, ho visto in te, tutti i cavolo dove c'è B. Sì, sì, idem, idem. Tutti su B stanno. Porco pico la bastardo. Ok. C'è un altro, c'è un altro, c'è un altro, eh. Non è l'altro, ti ho mai seguito. Venite sul mio elicottero, raga. Anzi, no, niente, no, 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 se siete ancora vivi, niente. No, no, c'è un carro, c'è un carro. Via, 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 scappa, 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 scappa. Non state giù il coso, però, minchia. C'è sta a seguir, car. Andai, Axel, così, scappa, scappa, scappa. C'è armato dietro B, eh. Cazzo, Axel. Mi sto messagliando. Ok, riparmi. Ce n'era uno, non lo vi. Io non so, io sto ingegnere. E vabbè, allora. Piantato. Braco, spavate subito in un attimo. Vai, preso. Dai, dai, spona, spona. Ok, è distrutto il carro. Ma che c'è ingegnere? Ma che c'è ingegnere? Mettiti quello che... No, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso. Appunto. Dai, ottenete, resistete. Una delle mie squadre almeno deve sopravvivere. No, c'è un altro, c'è un altro. Dai, cazzo, hai, ci resisti, dai, madò. Siamo... Siamo avanti, Dani, ok. Dai, dai, copri la bomba, dai, dai, copri la bomba. Mi hanno distrutto col mezzo da dietro. Perfetto, va benissimo. Ancola guida, preso all. Vabbè, abbiamo fatto, abbiamo fatto apposta. Ragazzi, hanno un segnalatore sul nostro respawn, per questo ci prendono i mezzi a noi. Ma veramente... Dai, oh, questo qua, come cazzo ha fatto? Ma dai, ora che non scusiamo queste cose, eh. Poi, scappuntana, dai. Ma che hanno un segnalatore sul nostro respawn e si sono presi il love nostro. Bene, complimenti. Non è qui, ma cazzo è possibile. Non ho avviato un'altra piedi, allora. Non ho avviato un'altra piedi. Ci hanno fottuto anche l'elicottero. Il segnalatore era qua. Chi è struonzi, figli di puta. A me ha fatto un'altra, non ho avvento. Non se ne frega, passate. Non, non, non. Cioè, così ci ottieni tutti. Ragazzi, se no, mi ho avviato. Cazzo non mi ha fatto un'altra. Dovevo controllare dove arrivare i massic, non li vedo, cazzo. Vabbè io vado Minchia Ma non ci credo Oh rianima mia Alex che cazzo ridi Ma io sono avuto a presto di te Ma come Non c'è l'elicottero Allora piazzati con l'elicottero Axel sopra la bomba B Anzi no sopra la bomba Con l'elicottero sopra la bomba Cambia strada Voi sulle scale io vado dritto Volalto cazzo Ci massacrano così Mi hanno preso uno sopra le scale Vai 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 ancora Raga dobbiamo attaccare veloci non possiamo sbagliare Mi hanno preso col cazzo di carro Hanno due carri Mi sono sganciato Veloce Veloce su di me Voi passate da sopra io sono passato da sotto Se mi fa cosare sto figlio di troia Arrivo eccomi Resistete sopra l'edificio Resistete sopra l'edificio Eh da dietro Da dietro Stai giù stai giù Ken Ken rimani giù Rimani giù Ken Rimani giù Ah è venuto a prendere anche me Ero già mezzo morto io Sono due lì sulla bomba Non siamo da dietro Stai disinnescare la bomba Stai disinnescare Chi sta disinnescando la carica Sto piantando di nuovo Coprite Dietro dietro Draco draco Vai 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 ho fatto il numero Stanno sparando Vai vai ho fatto il numero Incredibile Resistete sua raga Ho fatto il numero Dai non potete farli disinnescare Stai disinnescando Ma dai Io sto provando di incursione Subito Io non ci credo Non fate disinnescare sua Mi cazzo Dai Ah dai Ho piazzato subito Ho piazzato Dai Scandaloso Come ho fatto Di disinnescare sua Che mancava un secondo Occhio Tore Occhio Sì Occhio Vabbè Tore Come cazzo Di chi è Mi stiamo attenti Ho ripiazzato raga Ho ripiazzato Bluocci Mi ha preso col caramato Non ci credo Dio Cristo Minchia Tore no Una madonna Ce ne sta uno Ce ne sta uno Sta disinnescato E cazzo Minchia Dai Ma dai Piccino Non ci credo Minchia Tore Devo essere stato attento Ma come Lasci due Ne ha disinnescato Ma state scherzando Minchia Avemo conquistato No raga Minchazzo Che cazzo fate Rack Non mi farebbe Stemmi Guarda Non mi farebbe No Due Su B Forza Troia Non perdere M Carca Puttano Chiaravamo conquistato Cazzo avete fatto Su B No Come è salito Come è salito Quello Che schifezza Avete fatto Su B Quanta fatica Per nulla Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo un attimo Calmi Stiamo calmi Non so come ha fatto Uccidermi Non ho idea Di come mi ha fatto Uccidermi Va bene Ma chi è? Oh ma da là sopra Cazzo Sono sopra Al tetto di Dove è? No Dai io ce la fate a mettervi sdraiati In un punto No Vai via Ken ti porto sopra Vai Delft Porta Sono tutti su B Piazzate su Piazzate L'hanno già piazzato Su A Dai io ce la fate a mettervi sdraiati In un punto Dai raga state su B Stanno arrivando tutti dalle scale A sinistra Oh coprite A Se disinescano veramente Non riesco a prendervi Ma come sono Su B Che innesca veloce Io sono su A Su B Su B Andiamo Dai Dai che ho fatto il numero Lo sto piazzando Venite madonna Dai che ho buttato un kit Dai Sto campionando qua Ce l'ho anch'io Coprite ogni lato Io copro sinistra Io sto comendo qua le scale Dai Sto per il tetto di B Occhio Dai ta Dimmi dove Va sopra il tetto Torre vai avanti Vai avanti Copro di le scale Vai su B Vai su B Dai che stanno salendo Dai che stanno salendo Stanno salendo Sono morto Dai vai Sono morto Sono morto Stato disinesca Almeno penso Non so C'è stato Sì Sì Vaffanculo Ci vuole tanto giocare così Vaffanculo Dai raga Non fate passare che Sembrano ritardati Figlia Vado Ma non avevi mai mai toccato un Joypa di vita nostra L'organizzazione abbiamo vinto Con questo Dai Intiamo non scherziamo con la cosa seria Veramente Non scherzi Cazzo Stanno Partendo Lo stai facendo Ti è arrivato il tizio da dietro cazzo il minimo quando non desideri venire a casa e sguzzarvi tutti quanti roba da pazzo l'importante è che è finita bene finita bene il cazzo dobbiamo vincere sto round qua o il prossimo se no abbiamo perso 1-1 siamo che 2-1 che dici no stiamo 1-0 per loro dobbiamo vincere sta mappa se ti metti geniere con l'attrezzo riparatore io vado sul carro e tento almeno di fermare gli mezzi pesanti almeno tentiamo di rallentarli però quando io attacco sto fermo e tu ti metti dietro di me se allora vuoi metto geniere un secondo so che devo mettere a posto la classe ho dovuto fare qualche magia dai spanno mi metti figlio di puttana vai io difendo A cazzo suono cazzo suono vai avanti gli obiettivi sono di là ti metti a guardare il mare eccomi cazzo suono dove metto il segnalatore mettilo sull'edificio arrivano scendo dalla collina scendo dalla collina scendo dalla collina arrivano con rib no dai no ce ne sta uno nell'edificio adesso metto col rib raga con rib sta davanti a B c'è uno ah cazzo chiunque sta sul carro c'è uno che sta arrivando va ammazzato va ammazzato ho capito ragazzi se non mi ripari ne ho cazzo vai a cagare e mi ha ammazzato di coltellarmi sti cazzoni oh ragazzi buttate fuori la gente guarda quanti cazzo sono ci penso io ci penso io ci sto pensando io oh sono entrati due erano in dieci ma figa troia non fate inescare su B eh non provateci eh cazzo difendete B ma sono con i mezzi qua su B ok ho disidere scherzo su manco c'è come cazzo devo fare ma finisce vado il film di primo il paracaduto quando vuole lui vai li ho presi i tizi sul tetto dai raga ma no ma come cazzo ho fatto inescare su B oh chi cazzo è stato ragazzi sono contro due mezzi io uno ho fatto fuori raga sto disinescando mi hanno seccato mi hanno seccato disinescato avrei bisogno di rilavere su A eh su A fin di vita resisti su A Axel resisti attimo ci spara dentro ok ho fatto dai disattivato ho già attivato dai 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 difendete B difendete B è arrivato con gli elicotteri Axel resisti su A Axel a sinistra una sta a piazza su A una sta a piazza su A sono l'edificio di fronte B sono l'edificio di fronte B sono sono formati tutti non fate piazzare su B raga ehi stanno già plantando su B che ti devo di visto Dio non fate plantare su B dai vai spawnate disinescate dai su dai dai disinesca disinesca no dai qualcuno su B deve venire porca puttale siamo soli che cazzo di merda vabbè minchia porca madosca non ci capiamo nel intento non capiamo l'italiano no non capiamo l'italiano Alex non capiamo l'italiano c'è veramente vabbè niente dovete prendere sti cazzo di mezzi quando spawnano sono l'unico che li prende porco dio che devo fa dove mette il segnalatore il rack su A li stanno anche riparando se li stanno inquiculando i fai in mezzi porca puttana che di te non possono inquilare in questa maniera dammi sto caro stanno con l'elicottero buttate giù quell'elicottero di merda oh un cazzo di RPG ce l'avete o no ingegneri porco di ingegneri cazzo buttate giù l'elicottero ma che stinger che cazzo dici no lo stinger l'altro c'è anche l'UAV e anche un carro armato dietro si e poi la madonna eh niente e dai dai ce ne sta uno ma basta sto dando il cazzo che cos'è di A ce sta uno sul tetto di A buttate giù sti cazzo di lava vanno rotto i coglioni prendete prendete un cazzo di RPG figa ancora mi ha preso sto lava di merda ancora da dietro su A su A vaffanculo sono caduto no eh senza se vorrei sognare ce ne sta uno già su B che mi ha ammazzato eh cazzo con sti carri di puttana galera vabbè ma hanno i carri si sanno i carri ragazzi hanno tutto ma che cazzo resto a fare anch'io che cazzo di stronzo che sono sono dappertutto vabbè basta fatevi piantare quattro carri che cazzo vogliamo fare madonna magari se mettete una cazzo di mina di merda magari oh fa il culo porca troia eh c'è un ca oh lì qualcuno può spacchiamo una cazzo di mina del cazzo è un RPG ma chi è il geniere cosa devo farci ma dali ma gli altri due geniere che cazzo fanno ah no abbiamo uno di geniere dai 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 mettiti ancora il geniere ma veramente sono già geniere dall'inizio partita io figa puttana cazzo questo non me l'aspettavo cazzo con un geniere che cazzo è un po' cazzo è un geniere axel ok eh fammi crepà tanto il segnatore di rientro non ci serve in difesa mettete ste cazzo di mine e usate questi cazzo di RPG magari sarebbe anche il caso eh mi ammazzano sempre sponato lo spawn eh non che c'è quello subito oh dove le piazze le mine in che in quale dei due non lo so oh piazza sul studio scendere che cazzo ti devo dire piazza sulla strada piazza sulla fottuta strada del cazzo e basta io sul ponte piazza sul ponte piazza sulla strada piazza sul ponte piazza sulla strada no no c'è un carro c'è un carro via 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 occhio alla diga cioè siete morti tutti lì sotto la diga cioè proprio sotto dovete andare poi a difendere boh vabbè beh dovevamo scappare siete in quattro genieri se vedo un cazzo di cararmato entrare nella nostra area mi incazio come una biscia io ve lo dico è andato su su dove? dove? su A o su B? io sono su B sono su A o su B? Dani no sono su per le montagne su per le montagne cazzo a destra ah in quel senso uno se ne è andato lì per di là non so se l'hanno già preso eh c'è l'elicottero buttate giù l'elicottero un attimo da pia lo stinger cazzo non è che lo vai a prendere in cantina mi sto cazzo di là porca puttana Alex stai in B dove sta l'elicottero? porco di un d***o porco sei morto su B? oh dovete buttare giù quel cazzo di carri eh no ma sono io che ho fatti prendere su B sono su A sono su A stanno entrando dal tetto sono entrati dal tetto sta piazzando volete ammazzarlo quel tizio che sta spiazzando o no? niente non volete ammazzarlo fa niente fatti di fare il cazzo che vuole come? questo è l'elicottero non va giù attenzione sopra eh ce ne sta uno dimmi qualcosa che non so magari sto disinnescando si mi da supporto oh su B di nuovo ma non ci credo no 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 raga almeno B la teniamo no no oh oh non da solo sono arrivati in due qua non c'è verso riuscite di innescare su B eeeh minchia da solo su B mi vado in via guardate guarda che camper no minchia vedo come sta andando non c'è nessuno su B allora almeno uno deve controllare l'altate che non arrivano ok intanto non sto parlando italiano non c'è nessuno ma l'affanculo buttata in giapponesia non sto parlando le mine sono già sparite tutte tanto chissà ne frega quindi adesso entreranno in 57 carri no vai morto il carro sulle mine precedenti io l'ho messo le mine scoppiato si le aveva fatto scoppiare oh sta da sta da su A eh sono su A datemi il supporto come stanno bersagliando io non ho ucciso niente niente c'è dietro uno dietro la libreria dietro vai perfetto resistete che spawn resistete dal tetto dal tetto dal tetto no c'è ne uno c'è ne uno porco giudo stanno ressando sta piazzando sta piazzando c'è uno che spara da sopra è sceso sotto quello da sopra niente niente ancora tutti fuori siamo che bello eh vaffanculo cerchiamo di entrare tutti ma sacriamoli se entriamo forse ce la facciamo eh sono tutti su A sono tutti su A pensavo fossero su C cazzo no dai non mi ha sparato dai salite sì vabbè non spara il mio oh mamma mia a me sembra a me sembra a me sembra a me sembra vabbè ma che cazzo già questi sono qua quelli stavo ce stavo già aspettando vabbè ma forse niente niente sono sul tetto sono sul tetto se buttano giù dai tetti raga qualcuno venga sul R Baxel viene sul R che andiamo su A intanto difendete B difendete B gli altri bene stanno massacrando resisti quella su A resisto niente andate su B andate su B veloce andate su B su B piantate su B sono tutti su A oh ma questi cosa come minchia fanno dai dovete plantare su B sono a noi a plantare copritemi madonna ce ne sta uno soppertetto se la vuoi da creare un perimetro attorno a B dai dai coprite B coprite B eh ma siete morti tutti ma veramente ma dire te sparano dappertutto no non mi rianimare no mi rianimare che siamo già morti dai salite sul rib aspetta dac aspetta aspetta a partire dac vengo sui da ah mi chiamano rotto di lui poi andiamo basta 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 cazzo perdo tempo a fare Alex ti vengo a prendere dietro i porca porca bastardo no veramente Alex dietro ciao ma che cazzo fa quello con la jeep che cazzo state facendo con la jeep che cazzo fate Axel io ti saluto Ken portami su B si col carro armato ma si dai tanto portami sopra B ma dai ma sono immortali dai è veloce avanza un attimo dai che mi butto fra poco dai avanza vai mi butto trepano vai mi sono parecazzoso esattamente su B mi sto piantando vai l'ho piantata mi date supporto ok te ne arriva uno sto arrivando con carro arriva carro veloci fate un primo su B dai ma sono immortali è possibile non crepano sti veicoli è una cosa allucinante non crepano non è morto non è morto non crepano non riuscite a ucciderlo no niente è possibile dai ho imbalzato dai ho piaciuto su B ho piazzato dai li ho presi tutti dai c'è il carro qualcuno vada su a veloce qualcuno su a veloce va andando io su A ok sto carro di merda dai coprite a B coprite a B ho anche da un alto dai però non puoi disnescare non scherziamo arriva il love arriva il love dai l'ho preso quello disnescavo dai tutti su A tutti su A cazzo veloci ne ho preso uno su A resistente su A resistente su A anche da lontano non è necessario andare sopra la bomba stanno arrivando tutti di massa resistete e non crep dai non crepano vai perfetto cazzo raga li vogliamo fare un attimo pesare un attimo sui veicoli oppure noi li buttiamo nel lago noi stronzi siamo eh vai vai go go vai 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 guardi prendete l'elicottero e paracotatevi su su B prima su B dobbiamo piazzare che è più difficile B spara tutto ciò che si muove Alex io non posso tornare dietro che cazzo fa sto gioco chi è che sta piedi c'è chi io Alex giù io 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 eh vado a prendervi e vaffanculo va porca c***a eh che cazzo come minchia mi ha ucciso questo qua dai sull'elicottero sull'elicottero raga sull'elicottero non fatevi buttare giù oh minchia sto facendo verso la sua sull'anemic dog minchia Axel vai su B con l'elicottero vai su B prima che ci fai vai 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 vuoi farti beccare minchia sparate giù se è possibile dai scendete scendete vai 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 preso uno eh che cazzo dai no veramente non muoio non muoio è incredibile resistete resistete dovete darci lo spawn non potete morire vai Axel vai segnatore di rientro segnatore di rientro c'è il carro di me inghia raga 40 ticket dai 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 un po' di tempo c'è eh io non ce la voglio sono col medico e allora siamo fottuti sprechiamo il carro mandatemi Axel mandatemi Axel subito ora deve ripararmi io dietro riparami vai vai buttati quando vuoi il carro sta arrivà il carro sta arrivà avete il carro dietro fare sinculare così cazzo non ha più senso vai ora vado si ma certo no ma dai no ma dai non può morire dai me lo ho tu di salute raga non sputtanate ticket non andate a fare i kamikaze dobbiamo essere di più per piantare ok quello uno è morto eh c'è il carro c'è il carro c'è il carro raga vedete sti cazzo ingegneri e ammazzate sti stronzi ma madonna da dietro pure eh lo so ma non ci c'è anche a me eh vaffanculo dai entrai da dietro no quanti sono non battite non battite da soli cazzo no da soli non ci vuole tanto capire che venite sul cazzo di elicottero comodo si e no ma porco di io ne ho preso uno ma ce n'era altro veni sul tetto c'è un vecchino sul tetto ce ne stanno tre o quattro piazzate piazzate ma ce n'è uno dentro ok raga tutti su A che lo so ma sono anche fuori porco zio ma sono dappertutto che palle tutti su A che cazzo cazzo mi stanno bersagliando con i RPG cazzo cazzo laga sto gioco ma vaffanculo eh dio 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 ma dai torresca eh vabbè vaffanculo non posso più entrare eh vabbè vaffanculo mi sono ma sono dai sono dappertutto non mi sono il gioco contro la parete portare dovesse andare su a nel frattempo infatti ci sto tentando di andare a fare comunque 59 per cento di vita quindi non è che durerà molto e boh e alla storia boh non buttate sti cazzo di joypad finiamo la partita ammattate sto stronzo siamo ancora morti tutti subito veramente io direi che il discorso clan world battlefield 4 inizia a chiude subito i battenti secondo me ciao